Endless Love, colpi di scena e intrighi nelle prossime puntate. Cosa sareste disposti a fare per sfuggire a una situazione disperata? Vi siete mai chiesti fino a che punto potreste arrivare pur di evitare qualcosa che vi terrorizza o che vi sembra insopportabile? Pensateci bene. Cosa fareste se foste davvero in una situazione in cui sembra che non ci sia via d'uscita, in cui tutto sembra contro di voi e non vedete alcuna speranza all'orizzonte? Come reagireste? Cerchereste una soluzione disperata? Vi arrendereste? Oppure trovereste dentro di voi una forza che non sapevate di avere? Questa è una domanda che ci siamo posti tutti almeno una volta nella vita. Magari è capitato durante un periodo particolarmente difficile quando tutto andava storto e sembrava che non ci fosse luce alla fine del tunnel oppure potrebbe essere successo quando ci siamo trovati di fronte a una paura enorme, qualcosa che ci faceva tremare al solo pensiero. In quei momenti ci chiediamo cosa sarei disposto a fare pur di non affrontare questa situazione? È proprio una situazione del genere quella che vive Niham Setzin, interpretata dalla talentuosa attrice Neslihan Atagul nelle prossime puntate della popolare serie televisiva Endless Love. Niham è una donna che si trova in una condizione estremamente difficile e disperata. La sua storia ci fa riflettere su quanto siamo disposti a lottare per la nostra libertà, la nostra felicità e il nostro benessere. Ci fa capire che, a volte, possiamo scoprire una forza interiore che non sapevamo di avere. Niham è un personaggio molto complesso e la sua lotta personale ci tocca nel profondo. Vediamo come cerca di sfuggire a una situazione che le sembra insopportabile e questo ci porta a riflettere sulle nostre vite e su come affrontiamo le nostre paure e le nostre difficoltà. La bravura di Neslihan Atagul nel dare vita a questo personaggio rende tutto ancora più coinvolgente e realistico. Immaginatevi nei panni di Niham. Cosa fareste voi? Come reagireste? Sareste pronti a tutto pur di cambiare la vostra situazione? Oppure vi sentireste paralizzati dalla paura? La storia di Niham ci invita a esplorare queste domande e a pensare a come possiamo affrontare le sfide più grandi della nostra vita. Endless Love non è solo una serie televisiva. È un viaggio emotivo che ci porta a confrontarci con le nostre paure e le nostre speranze. Grazie a personaggi come Niham possiamo riflettere su cosa significa davvero lottare per ciò che è importante per noi. E ci fa capire che, anche nelle situazioni più disperate, c'è sempre una possibilità di trovare una via d'uscita, una luce alla fine del tunnel. Niham è una donna che, nonostante le sue forze e il suo coraggio, si ritrova in una situazione davvero estrema. Durante un acceso litigio con il marito Emir Kosquoglu, interpretato da Khan Urgancioglu, la tensione sale alle stelle. Emir, un uomo potente e manipolatore, costringe Niham in un angolo, mettendola di fronte a una scelta impossibile. E' allora che Niham, disperata e senza più vie d'uscita, prende una decisione drammatica. Decide di gettarsi dal balcone di un hotel, dall'altissimo balcone di un hotel. Questo gesto estremo è il suo unico modo per sfuggire alla pretesa di Emir di avere un rapporto intimo con lei. Ma cosa può spingere una persona a compiere un atto così disperato? Quali pensieri e sentimenti attraversano la mente di Niham in quel momento? La sua decisione non è solo un tentativo di sfuggire fisicamente a una situazione insostenibile, ma anche un grido di libertà, un modo per ribellarsi contro una vita che le viene imposta senza il suo consenso. E' una mossa disperata per riprendere il controllo del proprio destino, anche se ciò significa mettere a rischio la propria vita. Niham è una protagonista che, attraverso il suo gesto estremo, ci porta a riflettere su quanto a volte ci si possa sentire intrappolati in situazioni da cui sembra non esserci via d'uscita. Chi di noi non ha mai provato quella sensazione di disperazione, quel desiderio di scappare da qualcosa che sembra troppo grande da affrontare? Forse non tutti arrivano al punto di compiere un gesto così estremo, ma la paura, l'angoscia e la ricerca di una via di fuga sono emozioni che molti possono comprendere. La storia di Niham in Endless Love ci invita a chiederci cosa sarei disposto a fare per sfuggire a una situazione disperata? E soprattutto, ci fa riflettere su come possiamo trovare la forza di resistere e cercare aiuto prima di arrivare a quel punto di rottura. La sua vicenda è un potente promemoria dell'importanza di non sentirsi mai soli e di cercare sempre una via d'uscita, anche quando sembra impossibile trovarla. Vi siete mai trovati in una situazione senza via d'uscita? Avete mai provato quella sensazione di essere intrappolati, di non vedere alcuna soluzione possibile? Forse la storia di Niham può farci capire che anche nei momenti più bui c'è sempre una speranza, una luce che possiamo seguire per uscire dall'oscurità. La sua esperienza ci insegna che per quanto difficile possa essere la situazione, è importante cercare il sostegno di chi ci sta vicino e non arrendersi male. Chi è il vero burattinaio dietro le quinte? Sapevate che Asu Al-Aqan, interpretata da Melissa Asli Pamuk, gioca un ruolo cruciale in questa storia? La sorella segreta di Emir è disposta a qualsiasi cosa pur di avere Kemal Soidere, Burak Ötziwit, tutto per sé. Vi siete mai chiesti fino a che punto una persona può spingersi per amore? Quali saranno le sue prossime mosse per evitare un riavvicinamento, tra Kemal e Nihan? Trame e inganni. Asu e il suo piano machiavellico. Asu ha in serbo un piano diabolico. Farà seguire Kemal e Nihan da un fotografo per scattare foto compromettenti. Queste immagini verranno poi pubblicate su un sito di gossip, insinuando che Nihan tradisca Emir. Come reagirà Emir a queste accuse? Pensate che le persone siano disposte a credere a tutto ciò che vedono sui social media. Un litigio fatale. Nihan si butta giù dal balcone. La rabbia di Emir esploderà in un litigio furioso che porterà Nihan a una decisione estrema. Minacciata di morte dal marito, Nihan fingerà di cedere alle sue richieste, ma, approfittando di un momento di distrazione, si lancerà dal balcone dell'hotel. Kemal, disperato, assisterà alla scena da lontano. Cosa fareste al posto di Nihan? Riuscirà Kemal a salvarla in tempo? Nihan fuori pericolo, ma la tensione aumenta. Fortunatamente, grazie all'intervento tempestivo di Kemal, Nihan verrà portata in ospedale e sottoposta a un'operazione rischiosa, ma salva vita. Tuttavia, la faida tra Kemal ed Emir è tutt'altro che finita. Quali saranno i prossimi passi di Kemal per liberare Nihan dall'oppressione di Emir? Pensate che l'amore possa davvero superare qualsiasi ostacolo? Un incontro misterioso. Quale sarà il piano di Kemal? Nel frattempo, Kemal si prepara per un incontro decisivo con Emir. Prima di affrontarlo, si congeda dai suoi fratelli Tarik, Rusgar Aksoy e Zeynep, Hazal, Filiz, Kyushuköse, in quello che sembra un addio definitivo. Quale sarà il suo piano? Riuscirà finalmente a liberare Nihan dalle grinfie di Emir? Cosa pensate che accadrà? Non perdete le prossime puntate di Endless Love, dove intrighi, passioni e colpi di scena vi terranno con il fiato sospeso. E voi, come affrontereste situazioni così estreme? Siete pronti a scoprire come andrà a finire? Ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un like al video per non perdere le prossime anticipazioni di Endless Love.